Allora posso mettere su youtube? Ragazzi mi sono capitate due ragazze brasiliane bellissime sanno anche cantare adesso vediamo un po' quello che ci fanno sentire vai Vanessa è lo show del tuo adesso non mi ricordo adesso non mi ricordo che cosa canto una canzone in inglese dai canta menina come grazie il mio amore per voi non è da tutti i giorni salire sul taxi del duca 40 e improvvisare così va bene però la prendiamo per buona dai sappiamo che sai cantare la prossima volta che ti prepari meglio ok saluto tutti gli amici del duca ciao e grazie